Ciao da Manuela e Silvia. Una storia per grandi e piccini. C'era una volta il bel paese di molto vicino. In questo paese c'erano delle grandi navi, un po' lente ma organizzate, che portavano anche mille persone per volta. Si potevano fare dei lunghi viaggi, le crociere. Per le persone partire era molto importante. Si partiva e si stava via anche parecchio, forse alle volte anche più del necessario, e a quelli più piccoli davano anche il gelato e tutti erano contenti. Il tempo passò e le navi diventarono un po' vecchierelle, così i capitani cominciarono a pensare che le navi dovevano essere diverse, più moderne, ma diverse come? Come fare? Doveva decidere il comandante supremo, ma i comandanti cambiavano spesso e ognuno nel tempo iniziò a decidere cose sempre più difficili. Il primo comandante disse, dobbiamo diminuire i soldi perché qui si spreca. Un altro disse, dobbiamo far diventare la barca più piccola. Ne arrivò un altro. Che disse ancora? I marinai devono lavorare di più. Tutto l'equipaggio deve lavorare di più e non possiamo assumerne altri. E così i comandanti per anni tolsero, accorciarono, accorparono, migliorarono. Fecero anche diventare la barca più efficiente con il motore nuovo. Ma alla fine la nave non era più una nave, era un'imbarcazione più piccola, più agile, ma che conteneva poco più di 200 persone. I marinai e tutto l'equipaggio erano stanchi, ma molto seri. Continuavano perciò a fare il loro lavoro, nella tempesta e con qualsiasi tempo, così per anni, senza che nessuno se ne accorgesse, perché il bel paese molto vicino aveva delle cose così belle che tutti lavoravano per farle bene. Finché un giorno arrivarono più di mille persone che dovevano partire urgentemente, ma la barca ne conteneva solo 200, spingendo un po' a 260. Si creò una lunga coda per riuscire a partire. I marinai raddoppiarono il lavoro, si cercò di aumentare i posti sulla barca in tutta fretta, perché partire era davvero molto importante. Così si arrivò anche a chiedere alle persone di rinunciare ai viaggi meno urgenti, di stare a casa. Così tutto andò bene e tutti riuscirono a partire. La nave che cos'è? è la nostra sanità. Sostituite tutte le barche con la parola ospedali e i marinai con medici e infermieri e troverete il nostro bel paese. Per chi dovrà ricostruire il bel paese un appunto. Non tagliate la sanità, la cultura e lo sport. Sono elementi fondamentali per la salute, per la mente e per il corpo. Ricordatevi!